Il cittadino che non c'è. E' questo il titolo del convegno che ha visto al centro del dibattito la posizione del cittadino nella società odierna, rispetto al ruolo svolto dai partiti e dalla politica. I partiti dovrebbero essere al servizio del cittadino, ma forse si assiste proprio al contrario esatto? Sicuramente, basta consultare la cronaca e si vede come il cittadino è compresso nelle scelte elettorali, che non sono evidentemente fattibili proprio per la legge elettorale che esiste, è compresso dal punto di vista anche dell'intermediazione politica rispetto alla determinazione del governo, è compresso, e questo è ancora più grave, rispetto a tutti i comportamenti sociali, perché non è quasi mai soggetto lui, ma è sempre oggetto, e addirittura è vittima degli scandali che in qualche modo viviamo in questi giorni, quindi è chiarissimo che qui il cittadino in Italia oggi non c'è. La mancanza di partecipazione nel costruire il vivere comune è un problema storico per il nostro paese, ha sottolineato Ghezzi, ma come si può allora rendere più consapevole la cittadinanza e raggiungere davvero una democrazia partecipata? La politica deve essere un servizio e non deve essere una carriera, non deve essere un qualche cosa che esautora, ma un qualche cosa che aiuta e che rende migliore la società e produce delle possibilità per tutti. La degenerazione del politico ha creato una classe separata dalla popolazione, che quindi non è più una classe politica democratica, ma è una classe politica oligarchica e parassitaria. Non basterebbe cambiare la classe dirigente, bisognerebbe avere una rivoluzione culturale? Bisognerebbe avere una rivoluzione culturale, perché portando ad esempio quello che sta succedendo alla regione Lazio, il problema non è tanto come sono stati spesi i soldi soltanto, come sono stati depauperati, ma perché sono stati dati. La vera sanzione ai politici che non sono politici, democratici, è la non rielezione, è l'essere banditi dal mondo politico.